a barbie family è iniziato il video non è più la foto non è l'immagine profita già barbie mi sono stati tre ore a fare l'immagine del coper... guarda guarda gli occhi dai mamma mia no basta guarda un secondo basta guarda un secondo la meno allora siamo stati tre ore a fare l'immagine del copertino e poi capirete che è vabbè tanto va scusami 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 mi stiamo lasciando male di uccidere spazzati giù le mani no no e non muovere tanto il telefono dai che sembra che c'è l'uragano è mia dai che se ne va via se ne va a Roma allora ho girato ma dove lo metti in cielo ho girato ma dai no Simona ma maneccia ho girato un po' di edicole prima di trovare cioè no l'ho trovato però poi sapete e vi dirò il perché il la sacchetta la sacca la plastica la plastica la una volta a a a a c'era la barbie halloween in edicolo c'era la barbie halloween in edicolo c'era la barbie halloween in edicolo però no allora il sacchetto di speciale halloween di barbie prodotto da mattel al costo di 9 euro e 99 e non capisco perché 9 euro e 99 e non 10 euro che ce faccio con centesimo io eh mi metti una caravella no no ok mi fanno apposta tutti gli centesimi che metto allora questo bustone per speciale halloween ma dentro di halloween non c'è un pipero però il contenuto è molto bello ok allora davanti vediamo la barbie halloween che dentro non ci sarà mai non la troverete mai state tranquilli la trovate solo davanti state tranquilli che dentro non c'è che è bella si poi ci sono palloncini ci stanno i palloncini di halloween il cagnolino con pipistrello pipistrello speciale halloween molto bello molto bello e dietro ci stanno barbie e le amiche tutte vestite con le mascherine e poi c'è qui gattino mascherine non mascherine 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 tante sempre stesse mascherina anche se voi vi accattate mascherine ve la mettete qua è sempre mascherina è quindi quindi qui stavo dicendo c'è gattino che esce dalla zucca qua c'è whisky ragnetto nananana 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 che canzone è che canzone è wiki ragnetto che canzone è wiki ragnetto ma vabbè peppa pig no non è peppa pig ma che si vabbè comunque ma io voglio aprirlo qua c'è fantasmino uuuu 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 una barbie uuuu e un gadget uuuu ma è bello vieni qua la 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 non lo dovevo comprare io solo che hanno pubblicato su facebook all'interno che si poteva trovare e sono andata a prenderla e dopo tante digole ce l'ho comunque vedete questo spazietto sbircia le sorprese ohohoho vedete questo spazietto sbircia le sorprese verissimo voi potete guardare all'interno cosa c'è quindi io la prima edicola all'interno c'erano aveva due stacchetti c'era la barbie astronauta cosa che abbiamo quindi io ho potuto guardare ma a parte che tastare ok nella seconda no nella seconda edicola vabbè a parte le altre edicole che non ho trovato un pifero va bene ho trovato lei che puoi trovare la made to move dentro quindi a 9 euro 99 una made to move è caduta dal cielo quindi grazie mattel solo per questo ti amo quando metti le barbie made to move in offerta oppure in edicola vanno più spesso grazie ho scattato tante di quelle bollicine e nella terza edicola perché la voleva pure lei ma non ce l'ho trovata c'era la barbie pop star quella con i capelli guardo di qui quindi con i capelli rosa e nuda nada nuda nada e niente io direi di aprirla quindi ragazzi per chi vuole le made to move io consiglio se volete prenderlo di cercare quello con la made to move perché a 9,99 ragazzi è un ottimo prezzo fidatevi cioè quando mai una made to move a 9,99 euro mai nella vita 10 euro che 10 euro ma no ma diciamo ma mica prendi una forbicina no eh ma no figurati no non stare lì vabbè dai no allora una made to move molto schiacciatina devo dire che una schiacciatina è diventata una dove è passata è passata è passata è passata un camion sopra è cosa stai passata simona ci sei seduta sopra simona sei seduta sopra la made to move adesso fare qui ok mi prende il fazzoletto mi prende il fazzoletto c'è a casa con raffredore la made to move in questione è lei solo per chi apre le confezioni e la tiene così o la swappa perché se no in collezione con scatola no perché ecco viene almeno io l'ho trovata così ma presumo che un po' tutte si trovano così questa made mi pare che l'abbiamo già aperta perché era già uscita le mie vincolate anni fa l'avevamo aperta anche le scarte si vabbè fa niente sono gli scarti questi sono gli scarti si mi sa si ma chi se ne frega se sono scarti tanto io do la scatola che me ne faccio e la questa bella avete la valerina la ginnasta ciao e l'avete già vista quindi è inutile comunque trovate potete trovare lei sbirciate sbirciate perché è schiacciata perché sono gli scarti andiamo avanti ecco cerchietto elastico e braccialetto potete trovare anche mi pare il cavallino se non è rompio che non ho visto male questo è il cerchietto elastico ma tu lo usi? si domani esco così con la farfalla qua invece della Belen che ce l'ha sotto ce l'ha qua la farfalla me l'appiccico qua e la farfalla a braccialetto molto molto bello dietro non c'è un pifero dietro sfondi del mare qua c'è barbie sfondi del cielo scusate del mare c'è barbie è la sua amica barbie dreamtoppia basta via 0 e 3 anni ok ciao va a vedere poi all'interno il sacchetto la busta la conserviamo per allora vedete? è rotto e sono tutti un po' vabbè è rotta la confusione poi trovate due giornali due magazine scusa Simona uno e uno o due allora questo magazine novembre 2019 ma come 2019? e questo è maggio 2020 ma mi sa che ma come 2019 che c'entra quello di 2019? questo qua è il forse abbasso lo schermo ok andiamo velocemente velocemente qua sono questa qua è uscita l'ho vista in edicola l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista è uscita questo mese in edicola qua è la storia che vabbè vado veloce perché se no la leggete e poi ciao qua tutorial il portagioi è molto carino se volete ricrearlo molto molto bello devo dire qua è la barbie pennista che trovate nei negozi che belli che belli animaletti questa è una barbie molto bella da mettere su medito move ovviamente qua colora colora combacia pompeggia qua ci sono i vestiti adesivi da mettere qua per esempio qua c'è un bel posterino qua c'è da colorare i vestitini qua il mio disegno potete disegnare e spedire il vostro disegno questa è molto bella mi piace molto bella mi piace anche lei lei vabbè tanto è anche in medito move quindi ah qua c'è l'indirizzo dove potete sperire a Milano via Bracco qua c'è il giochino a fare con la soluzione ma non ci andate nella soluzione no no questa è un'altra storia salto pagina così non la leggete e qua ci sono tutte le barbie foto creatività parliamo ci ceriamo le foto le love foto qua questo è molto bello questo set è molto molto bello mi piace mi piace questo set mi piace molto bello e ben fatto anche lei la piccolina è molto ben fatta qua sono i vostri disegni che mandate chi li manda se li mandate li potete vedere qua se non li mandate c'è un E eeeh grazie mamma era la festa della mamma e qua erano tutte le uscite che c'erano a maggio e a giugno eeeh vabbè cosa che e qua dietro è la serie dei bmr noi abbiamo lei 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 loro tre ci manca lei e loro loro lei mi piace lei mi piace tanto e si andiamo con l'altro magazine del 2019 ciao ne vediamo barbie con la sua bella chitarretta qua vediamo la ehm casa di barbie qua vabbè l'indice tutto quanto se ve lo abbasso qua la storia che vado avanti perché se in caso dovreste prendere anche voi il bustone e trovare questa storia non vi spoiler nulla e niente oggi sono un music una musicista bene qua questo qua qua è da colorare questa era la holiday che avevo aperto pure in collaborazione con Alessandro eeeh qui 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 sarà da colorare e ritagliare non lo so qua ci sono dei bellissimi adesivi che se voi avete molta fantasia potete ricreare dei quadretti molto molto belli qua anche qua il tablet molto molto bello potete ricreare il tablet ma ci sono i lupi si qua ehm sarà un non lo so un giocherello qua idem da colorare e pastrucciare qua da colorare e pastrucciare scarpe scarpe calze questo è un tutorial per ricreare la borsettina fai da te moda fai da te per ricreare una vostra borsettina a moda qua un le ricce cosa un pinguino qua è l'aereo di barbie 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 questo è il camper dall'aereo al camper ok dal cielo alla terra ok viaggiamo sempre viaggiare poi qua vabbè qua è la posta di barbie con i vostri disegni qua fate il disegno come prima spedite come sempre qua l'indirizzo qua c'è un gioco abc che mi divertivo un sacco abc e queste erano le uscite che uscivano nel 2019 c'erano i bambini i bambini no i delfini uscivano ma che belle uscite che c'erano il 5 dicembre uscivano i bambini il 15 novembre uscivano i delfini e il 21 novembre usciva la barbie molto bella e qui c'è barbie con del bello molto bella anche questo set con i cavallucci ma l'avete visto voi? si no? si certo era qua bene amici io sono molto molto soddisfatta del contenuto a parte vabbè come sa che io lo darò ad Alessia quindi ma lì glielo metto via per Natale si lo lascondo per Natale oh 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 tanto Alessia mi dimentica si ma questo video non guarderà ma va 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 ma mica guarderà i nostri video Alessia comunque mettilo via che mettilo là sopra che oggi è arrivato e niente sono molto rimasta soddisfatta del contenuto anche perché è un amendo to move come ripeto 9 euro 99 non si trova manco più manco più una scarpettina di a 9,99 quindi molto soddisfatta non penso di che anche se è stampata super bene è tutta dritta è perfettamente dritta ragazzi molto molto bella stampata molto 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 bene ne avevamo altre di questa ma erano delle carciofo quindi lei è stampata molto bene ma non me ne frega niente perché tanto non terrò questa testa di carciofo carciofo io maggiormente le prendo per bombare ma perché è l'algo del 2019? perché sono tutti ricicli anche questa non è ah sono avanzati? eh certo avanzi e niente detto questo io vi saluto mi raccomando continuate a iscrivervi al canale e ricordatevi di mettere i like i like ma insomma perché mi fanno male le dita ma io non lo so io ah un'altra cosa comunque nel canale di Pachito me lo stavo scordando madonna Pachito Magico Collezionismo anche lì ci sarà l'unboxing della busta eh non hanno trovato la med dico solo questo hanno trovato tutt'altro loro e forse non hanno trovato neanche niente di quello che ho detto io hanno trovato tutt'altro cioè e non non me lo ricordo i libri si lavare vi sto dicendo quindi andate vi scrivete attivate la campanella e così quando loro pubblicano voi ricevete la notifica e saprete il contenuto della loro bustone detto questo eh basta io non ho più da dire niente vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video continuate a seguirci e a supportarci vi vogliamo bene mua mua aiuto grazie 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 grazie